La canzone è una bella canzone di Michelle Grande, Alan e Marilyn Bergman. Si chiama You Must Believe in Spring ed è un invito a mantenere la fede in attesa che inizino tempi migliori. La scelta Chiara Itzi per celebrare la primavera. La cantante e compositrice molisana che dal 2014 si è trasferita a New York ha una carriera avviatissima fatta di dischi e di live che ora è infrenata a causa della pandemia. Ma proprio come segno di speranza per un ritorno dal vivo in tempi brevi, Chiara Itzi ha appena pubblicato questo nuovo video che è un duetto virtuale attraverso l'oceano. Con lei c'è infatti il pianista italiano Andrea Rea. Durante questo periodo, l'anno scorso, i sentimenti erano quelli di paura e assenza di speranza, ricorda Chiara presentando il suo nuovo lavoro. Ora non abbiamo ancora sconfitto il virus, ma ai miei occhi la primavera 2021 appare diversa da quella terribile di un anno fa. Ora vedo una luce in fondo al tunnel. Questo nuovo video è anche un'anticipazione del nuovo disco della cantante, un album live registrato durante un concerto a Brema proprio con Andrea Rea. L'album doveva uscire nel 2020, ma la Casa Discografica ha poi deciso di posticipare tutto a causa del Covid e il disco uscirà quando sarà possibile tornare a suonare dal vivo. You must believe in spring and love. L'album doveva uscire nel 2020, ma la Casa Discografica ha poi deciso di posticipare tutto a causa del Covid. L'album doveva uscire nel 2020, ma la Casa Discografica ha poi deciso di posticipare tutto a causa del Covid. Grazie.